Il treno regionale, 19870, di Trenitalia, proveniente da Potenza Centrale, è diretto a Foggia, delle ore 5.34, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Filiano. Il treno regionale, 19872, di Trenitalia, proveniente da Potenza Centrale, è diretto a Foggia, delle ore 6.25, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Filiano, Rocchetta Sant'Antonio Lacedonia, Candela, Ascoli Sapriano. Il treno regionale, 19871, di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 6.57, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19874, di Trenitalia, proveniente da Potenza Centrale, è diretto a Melfi, delle ore 7.22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 19873, di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 7.50, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19891, di Trenitalia, proveniente da Melfi, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 13.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19893, di Trenitalia, delle ore 13.15, per Potenza Centrale, è in partenza dal binario 2. Ferma a Potenza Università. Il treno regionale, 19878, di Trenitalia, delle ore 19.26, proveniente da Potenza Centrale, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19.909, di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 20.43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19.906, di Trenitalia, proveniente da Potenza Centrale, è diretto a Foggia, delle ore 20.17, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Candela, Ascoli-Satriano, Ordona. Il treno regionale, 19899, di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 16.36, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Potenza Università. Il treno regionale, 19.907, di Trenitalia, proveniente da Foggia, è diretto a Potenza Centrale, delle ore 20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.